Questo è il nuovo BlackBerry Storm 9520. Ha una marea di nuove funzionalità e applicazioni come Facebook, Windows Live e Vodafone Music. Il touchscreen con tecnologia ShowPress è molto pratico. Il vostro dito è il cursore e per aprire un'applicazione premete e sentite click. Avete sentito? Lo rifaccio. Adesso anche Wi-Fi e Bluetooth, così potete mantenere in ordine la vostra vita sociale dovunque andiate. Può gestire fino a 10 account di posta elettronica, in caso siate dei cervelloni tanto organizzati da gestire 10 account di posta. E ovviamente c'è una tastiera QWERTY completa, perfetta anche per i pasticcioni come me. Grazie a tutti.